verifica della misura di isolamento con super combi una volta avviato lo strumento dal menu principale selezioniamo appunto la funzione di isolamento a questo punto abbiamo le impostazioni possiamo andare a selezionare prima di tutto la modalità di prova clicchiamo su quest'icona abbiamo la modalità di prova automatica quindi lo strumento gestisce in automatico l'esecuzione della prova fino a quando non rileva un valore stabile una modalità di prova temporizzata dove andiamo a decidere noi il tempo di prova le prove da effettuare quindi in questo caso una prova tra fase terra o una doppia prova quindi tra fase terra e neutro e terra in questo caso noi vogliamo fare una doppia prova confermiamo andiamo a impostare il limite in questo caso lasciamo il limite di un mega ohm che è quello definito da norma la tensione di prova in questo caso lasciamo 500 volt in quanto stiamo verificando su un impianto 230 quindi la tensione di prova è assolutamente adeguata tramite il tasto di help possiamo andare a vedere lo strumento ci propone alcune videate esemplificative di alcune situazioni di verifica dove possiamo andare a vedere i suggerimenti di collegamento al nostro strumento e all'impianto in questo caso andiamo quindi a collegarci tramite la spina asciuco in dotazione quindi andremo a mettere la boccola nera sulla fase la boccola verde sulla terra e la boccola blu sul neutro andiamo a collegarci sulla nostra presa quindi per verificare la nostra linea che dovrà essere rigorosamente disalimentata infatti in caso di presenza di tensione lo strumento si rifiuterà di eseguire la prova e necessariamente dovranno essere scollegati tutti i carichi avviamo la prova tramite il tasto go stop lo strumento esegue la prima prova a questo punto esegue anche la seconda e ci fornisce un risultato positivo il valore di resistenza misurato è maggiore del fondo scala di 999 ohm quindi abbiamo un isolamento pressoché ottimo la tensione di prova applicata è di 516 e 517 volte a questo punto possiamo tramite questo icono al tasto save andare a salvare la nostra prova abbiamo la possibilità di inserire dei commenti creare dei dei nodi per aggiungere dei marcatori ma questo lo vedremo in un video dedicato in questo caso ci limitiamo semplicemente a salvare la misura confermando la misura è stata salvata